Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando ovviamente del Giro d'Italia che in arrivo nella nostra regione saranno infatti tre giorni di festa per l'Abruzzo che da domani fino a martedì si tingerà di rosa per il passaggio del Giro d'Italia. Dopo il riposo previsto per lunedì, martedì la carovana ripartirà da Pescara per raggiungere Iesi tramite la strada statale 16, le ordinanze e le chiusure nel servizio che segue. Conto alla rovescia per l'arrivo della carovana rosa in Abruzzo. Dopo le asperità di domenica pomeriggio con l'arrivo in cima al block house, lunedì giorno di riposo in riva al mare, ripartenza a martedì da Pescara. Tutto pronto in città per quanto riguarda la chiusura delle strade. La partenza è fissata per le ore 12.30 di martedì da piazza Salotto. Gli atleti passeranno per via Nicola Fabrizzi, via Venezia, lungo fiume Paolucci, lungo mare Matteotti e Riviera fino a raggiungere le naia di dove è fissato il chilometro zero che darà il via libera alla gara che si dirigerà verso l'arrivo di Iesi. A risentirne dunque la viabilità cittadina. L'ordinanza prevede il divieto di sosta e di fermata sul tratto di via Nicola Fabrizzi compreso tra Piazza della Rinascita e via Galilei e sul tratto di via Le Regina Margherita tra via De Amicis e Piazza della Rinascita dalle 6 del 16 maggio alle ore 18 del giorno dopo. Idem sul tratto di via Regina Elena tra Piazza della Rinascita e via Mazzini e in piazza a primo maggio dalle 5 alle 18 del 17 maggio. Su Corso Umberto, su parte dell'area di risulta dalla vecchia stazione ferroviaria dalle 5 del 16 maggio fino alle 14 di martedì. Divieto di transito il 17 dalle 9 fino alle 14 anche sul ponte di collegamento tra l'asse attrezzato e Piazza Italia e sulle rampe d'ingresso e di uscita. Divieto di transito martedì dalle 9 alle 14 anche su via Solferino, via Zara, via della Riviera, via Berardinucci, via Ragazzi del 99, via Sabucchi, via Muzzi, via De Cesaris, via Roma, via Umbria, via Trieste, via Genova, via Firenze, via Campania, via Palermo, via Lucania, via Caduti dal Forte e Ponte Risorgimento. Per questo scuole secondarie di primo e secondo grado resteranno chiuse martedì così come quelle di Borgomarino, Illuminati e Silone per quanto riguarda la primaria e l'infanzia. Le chiusure interesseranno anche la città di Montesilvano dove dalla mezzanotte alle ore 15 è prevista l'istituzione del divieto di sosta su parte di via Aldomoro dal confine con Pescara fino a via Adige, sull'intera via Adige, su parte di Corso Umberto da via Adige fino al confine con Città Sant'Angelo. Su queste arterie è previsto inoltre il divieto di transito dalle ore 9 alle ore 15. A Città Sant'Angelo resteranno chiuse la scuola Fabiani Primaria, la scuola Media Marina, scuola Infanzia Saline, asili nido privati di Marina e istituto Spaventa. Una volta in provincia di Teramo la carovana precederà esclusivamente sulla strada stata alle 16 fino a Martinsicuro. A Silvi il sindaco Scordella ha comunicato la chiusura di tutte le scuole. A Roseto degli Abruzzi scuole chiuse e sospensione del mercato settimanale di Piazza Olimpia. Ordinanza. Anche a Giulianova il sindaco Costantini ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e negli asili nido per l'intera giornata di martedì. Le sospensioni delle lezioni e delle attività pomeridiane avranno solo due eccezioni. Si svolgeranno infatti regolarmente le attività dopo le 14.30 nel liceo Curie e quelle concorsuali programmate all'istituto Crocetti Cerulli. Il provvedimento prevede ancora il divieto della circolazione stradale su tutto il tratto della statale 16 ovvero in via Turati e via Galilei dalle 10.50 alle 14. Lungo le stesse strade è disposto il divieto di sosta e fermata dalle 7 alle 14. Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grade anche a Tortoreto e divieti di sosta e transito lungo la strada statale 16 dalle 10.30 alle 14. Statale 16 e scuole chiuse anche ad Alba Adriatica e Tortoreto. L'Abruzzo dunque è pronto a tingersi di rosa e rispondere in massa come sempre. E pazienza se per un giorno ci saranno dei disagi ma come cantava Paolo Belli è un gran bel giro, è una grande festa, è musica. E siamo alla pagina della sanità con il bollettino del coronavirus. Oggi in Abruzzo 1.154 nuovi positivi, eseguiti 2.705 tamponi molecolari, 6.510 test antigenici, due le persone decedute, una in provincia di Pescara e una residente fuori dalla nostra regione. 360.021 i guariti, più 866, 3.830 attualmente i positivi, più 285 e 285 sono anche i ricoverati in area medica, più 4, 8 in terapia intensiva, numero invariato, 30.537 in isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila, 208, nella provincia di Chieti 386, in quella di Pescara 266, in quella di Teramo 257, infine 12 quelli fuori regione in accertamento. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo a Pescara dove la giunta Masci ha illustrato questa mattina il nuovo piano parcheggi in città anche relativamente al regolamento per i residenti, previsto un abbonamento annuo da 360 euro per i pescaresi. Vediamo. Sindaco, oggi in conferenza stampa avete annunciato le novità che riguardano i parcheggi a Pescara, soprattutto per le riviere, ma anche per i residenti che avranno delle agevolazioni ovviamente per poter parcheggiare le loro auto. Credo che la novità più importante sia questo abbonamento annuale straordinario, agevolato per i cittadini di Pescara, cioè per i residenti a Pescara. Un abbonamento che permetterà di avere il parcheggio a meno di un euro al giorno, cioè 360 euro l'anno, che corrispondono a 30 euro al mese e che corrispondono a meno di un euro al giorno. Un prezzo soltanto per i pescaresi per tutta la città, cioè chi farà questo abbonamento annuale ripartito in quattro rate avrà la possibilità di parcheggiare in tutta la città a meno di un euro al giorno quando fino a oggi pagava invece 54 euro al mese e questo credo che sia la novità più importante. Noi abbiamo ascoltato i pescaresi, abbiamo visto qual era la necessità, ovviamente noi abbiamo la necessità di tenere i conti in ordine e quindi abbiamo dovuto trovare degli equilibri, ma questi equilibri sono stati trovati con un'agevolazione dedicata ai pescaresi. Poi abbiamo introdotto per il periodo estivo, soltanto per il periodo estivo, l'abbonamento per la riviera Nord dalla nave di Cascella fino al confine con Montesilvano e per la riviera sud dalla meridiana fino al teatro d'annunzio dove ci sarà la possibilità di parcheggiare a pagamento anche qui con agevolazioni per i residenti di Pescara con prezzi a poco meno di 2 euro al giorno. Poi ci sarà un abbonamento settimanale per tutti, anche qui con tariffe aggivolate a poco più di 2 euro al giorno per la zona Nord e meno di 2 euro al giorno per la zona Sud. Poi l'abbonamento orario sarà sempre di 1 euro al giorno fino a un massimo di 4 o 5 euro. Quindi introduciamo la filosofia del pagamento sulla riviera perché chi va al mare con la macchina e consuma uno spazio è giusto che paghi perché quei posti non ci sono per 120 mila persone o per 200 mila persone che vanno al mare ma ci sono per poche persone, quelle persone che hanno un privilegio è giusto che paghino qualcosa. Credo che funzionerà perché così chi vorrà andare con la macchina pagherà qualcosa e troverà il posto. Poi noi favoriremo la mobilità light, quindi le biciclette, i monopattini, il mezzo pubblico elettrico perché introdurremo anche una navetta per chi vorrà andare con il bus elettrico sulla riviera, poi ci saranno comunque sempre i posti lato monte liberi per i residenti della riviera e gratuito. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di acqua perché il forum H2O questa mattina ha svolto un sit-in in Piazza Unione a Pescara per dire no all'acqua privata e per ribadire l'importanza del bene pubblico, tutti i dettagli nel servizio che segue. Il forum abruzzese dell'acqua oggi manifesta a Pescara per chiedere un'acqua pubblica ancora una volta? Sì, innanzitutto manifestiamo perché a livello nazionale è stata indetta questa giornata di mobilitazione dal forum H2O nazionale, in tante città italiane ci saranno manifestazioni di questo tipo per dire un no netto al decreto al DDL, cosiddetto sulla concorrenza che il governo Draghi si appresta ad approvare senza quasi opposizione. Naturalmente in questo decreto ci sono tante criticità, in particolare noi segnaliamo le conseguenze dell'articolo 6 che porterebbe l'articolo 6 che appunto diciamo in parole semplici comporterebbero la privatizzazione di una serie di servizi pubblici di vario tipo e anche del servizio idrico, quindi dell'acqua. Naturalmente la nostra battaglia contro la privatizzazione dell'acqua, la mercificazione dell'acqua è oramai annosa e condivisa anche da tante altre forze e da tante altre associazioni. Quindi chiediamo e ribadiamo il nostro non netto a questo e ovviamente a questo noi aggiungiamo anche la nostra critica alle società che gestiscono l'acqua in Abruzzo, in particolare noi tra Chieti e Pescara abbiamo rassicurazioni che non avremo crisi idrica, che quest'estate andrà tutto bene. Non crediamo a queste promesse perché i fatti almeno fino a questo momento hanno dimostrato esattamente il contrario. Non siamo soddisfatti della gestione dell'acqua che viene fatta nella nostra regione e chiediamo miglioramenti nelle infrastrutture, nelle tubature, per le tubature e insomma vogliamo più di quello che si sta facendo. Siamo a Pescara, Fontanelle, i consiglieri comunali del centro-sinistra di Pescara tornano a chiedere con forza l'apertura di una farmacia proprio nel quartiere di Fontanelle. Dopo la disponibilità di una farmacista si chiede di accelerare l'iter, presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale. Gian Pietro, sembrano essere più maturi i tempi per l'apertura di una farmacia nel quartiere Fontanelle di Pescara, soprattutto nella zona di via Caduti per Servizio. Voi da tempo invocate questa apertura e state lavorando in questo senso? Sì, c'è stata anche una petizione di circa 2.000 cittadini che hanno chiesto proprio che in questa zona aprisse questa farmacia. Ora dopo tre interpelli finalmente una farmacista ha accettato di aprire in questa zona. Ora il punto è questo, che entro 180 giorni dalla comunicazione deve aprire effettivamente la farmacia. Il punto è che l'area in cui può aprire, benché stata molto ristretta negli anni passati, comunque è un'area ancora abbastanza ampia. Invece è questa l'area in cui dovrebbe aprire al nostro giudizio la farmacia, proprio per far sì che ci sia quel presidio sociale di aggregazione, di servizio che può aiutare questo quartiere a vedere crescere la quantità della vita. Quindi diciamo che il Comune oggi può mettere uno dei suoi locali liberi, che sono qui a piena terra, delle palazzine di vaguti per servizio, a disposizione di questa farmacia. In modo che ci può anche essere una spinta affinché apra qui la farmacia, con un locale che grazie anche al nostro intervento in Commissione di Controllo e Garanzia oggi sono in via di accatastamento, purtroppo sono spesso locali che in passato non erano stati accatastati e appunto a febbraio facemmo una commissione proprio su questo argomento che ha anche in qualche modo spinto gli uffici a accelerare su questo piano. Ora però c'è finalmente una possibilità, da un lato privato, che una farmacista ha accettato di aprire in questa zona. Dall'altro questi locali, grazie anche al nostro intervento, sono in fase di accatastamento. Oggi diciamo che queste due cose si possono incrociare per far sì che finalmente via di servizio abbia la farmacia. I tempi? I tempi dipendono chiaramente in parte dal Comune, ma ci sono circa 90 giorni ancora di tempo perché questa farmacia apra. Quindi sono pochissimi giorni, ma crediamo che se c'è la volontà questa volta si possa cogliere l'obiettivo. Noi diciamo che oggi ci sono tutti gli strumenti che questo accada. E ci spostiamo a Lanciano, mancano infatti pochi giorni e la Fiera Nazionale dell'Agricoltura sarà inaugurata. La manifestazione lancianese è giunta alla sua sessantesima edizione. Vediamo. Circa 250 gli espositori che tra una settimana daranno forma alla Fiera dell'Agricoltura. Alcuni espositori hanno dovuto rinunciare, in particolare quelli del settore metalmeccanico, per le difficoltà nel reperire le materie prime, ma Lanciano Fiera torna comunque ad animarsi come prima della pandemia. Ci auguriamo tutti quanti che con le dinamiche dell'ente Fiera riprendano anche le dinamiche importanti delle imprese locali, della produzione, della partecipazione delle persone a questo evento. Questa sarà la sessantesima edizione della Fiera, l'ultima conferrante in veste di presidente dell'ente e infatti al termine di dieci anni alla guida di Lanciano Fiera. Ho avuto delle soddisfazioni importanti perché la Fiera ha avuto delle soddisfazioni importanti. Siamo riusciti a organizzare un sacco di manifestazioni, un numero indescrivibile sia per conto proprio che per conto terzi. Soprattutto abbiamo portato avanti l'idea che la Fiera sia al servizio di tutti, non è solo un incontro tra economico o finanziario, tra domanda e offerta, ma è stata sempre a disposizione come servizio per la comunità. Addetti ai lavori della filiera dell'agricoltura, ma non solo, arriveranno da tutta Italia. L'appuntamento è per il 20, il 21 e il 22 maggio, è possibile acquistare i biglietti anche online e con una riduzione del prezzo, così da evitare assembramenti all'entrata. Oggi la regione Abruzzo ha un'economia molto variegata, a qualcuno sfugge che siamo la prima realtà industriale del mezzogiorno, abbiamo un comparto agricolo soprattutto legato al vitivinicolo importante, così come quello del turismo e tutte queste realtà riescono a condividere e a convivere insieme in maniera egregia. E siamo a Montesilvano, presentato il Magister Colors Village, progetto di rigenerazione industriale dell'ex fabbrica Tessile, riconvertita a centro ludico, sportivo, culturale, aggregativo per i giovani a zero impatto sull'ambiente. Andiamo a vedere il servizio con l'intervista realizzata al sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Sindaco De Martinis, oggi presentate questo importante progetto qui a Montesilvano in Via Danubio a cui l'amministrazione comunale teneva in maniera particolare. Oggi vengono raccolti i risultati? È un progetto davvero bello e importante per il quale faccio un ringraziamento e un plauso a Giancarlo Rabuffo e ai suoi collaboratori, ma anche ai tanti imprenditori che hanno creduto nell'operazione, perché è un progetto che non soltanto regala alla città uno spazio dove fare sport, dove trovare sede imprenditoriale, dove esiste peraltro l'Università Europea del Design che è un fiore all'occhiello per il nostro territorio, ma anche perché questo spazio è uno spazio che lascia il campo a degli edifici in abbandono, dei capannoni in abbandono, trattasi in realtà di una zona dove da anni si richiedeva una riqualificazione. È bello che ci siano stati imprenditori, in questo caso ci sia stata una mente così illuminata come quella di Giancarlo che abbia regalato alla città tutto questo. Non a caso in seduta al tavolo stamattina c'è anche il sindaco di Città Sant'Angelo, col quale mi piace ci sia da anni una sinergia e questo distretto colore che in qualche modo segue anche delle opere, delle situazioni che si stanno portando avanti su Città Sant'Angelo rappresenta davvero un esempio di quanto i territori possono essere sinergici e possano insieme regalare al territorio ai cittadini qualcosa di importante. Continueremo così anche negli anni a seguire e ci fa piacere ci siano degli imprenditori, appunto dei soggetti che insieme alle amministrazioni possano fare qualcosa di davvero bello per i cittadini e per tutti noi. Da Montesilvano ci spostiamo a Teramo, io vi di cose il titolo della mostra dell'artista Teramano Antonio Gualtieri paternò in corso negli spazi espositivi dell'Arca Laboratorio per le arti contemporanee. La personale promossa dall'Associazione Culturale Art del Comune resterà allestita fino a domenica 22 maggio. La mostra è strutturata in stanze, tre stanze dell'Arca e insieme a Martina Lolli, la curatrice abbiamo pensato di fare una mostra molto radicale, molto sintetica che ha a che fare con il nostro modo di essere. Nella prima stanza c'è un intro, nella seconda stanza c'è un chorus e nella terza stanza c'è un'installazione e la stanza è chiamata outro. Fondamentalmente io quando faccio un qualcosa non faccio mai niente per raccontare, per descrivere, per illustrare. Diciamo questo è un approccio che è molto legato magari a un'arte del passato che aveva in primis come scopo principale la rappresentazione, il racconto di una storia, quindi un aspetto anche costruttivo dell'opera. Nell'arte contemporanea credo che l'opera è un qualcosa, è un dispositivo di pensiero e ognuno in base alle proprie conoscenze, il problema di essere può vedere o può non vedere. L'inaugurazione è stata abbastanza affollata, devo dire che però è una mostra che va visitata in solitudine. La passione dell'arte nasce insieme a me perché mi è stata trasmessa da mio padre che si occupa d'arte, quindi ho avuto sempre, anche quando ero bambino, magari a 4-5 anni andavi a vedere i fuori uso, andavi a vedere, non lo so, l'ex Hiccatoi di Tabacchi di Alberto Burri, quindi insomma il mar di Rovereto avevi, comunque sia uno sguardo che vedeva quelle cose e in un certo senso rimaneva colpito. Quelle cose io credo che nonostante ciò, anche se sei piccolo, però una memoria secondo me si stabilizza. E siamo alla pagina sportiva, il calcio in primo piano, calcio di Serie C, parliamo del Pescara dopo l'eliminazione dai play-off, parla il direttore sportivo Luca Matteassi, create aspettative troppo alte dopo l'eliminazione dai play-off per mano della Feralpi Salò, il dirigente abruzzese fa il punto della situazione dopo un anno sicuramente non all'altezza della situazione. Ascoltiamolo. Che cosa si può dire al 91esimo, non solo di questa doppia sfida con la Feralpi, ma di questa stagione direttore? Di questa stagione si può dire che è partito tutto da quest'estate dove abbiamo cambiato tantissimo, molte cose sono riuscite, altre non siamo riusciti a farle, abbiamo forse creato delle aspettative troppo alte all'inizio della stagione, il nostro vero obiettivo arrivato a un certo punto era il terzo posto, quello lo abbiamo fallito, non siamo stati capaci di arrivare terzi, siamo arrivati quinti, siamo arrivati a questa partita con qualche elemento in meno, non è una giustificazione, però sono cose che contano fino a un certo punto, siamo fuori e dispiace. Lei prima parlava di fallimento relativamente alla conquista del terzo posto, c'è però chi parla di fallimento di questa stagione del Pescara? Lei cosa si sente di dire che è il direttore sportivo di questa squadra? Chi parla di fallimento di questa squadra forse non sa il lavoro che è stato fatto, i contratti che abbiamo tolto, siamo riusciti a portare tantissimi giocatori in prestito, altri sono in scadenza perché sapete tutti che il Presidente sta cercando di cedere la società, abbiamo cercato di fare questo per alleggerire un po' il tutto, da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro, poi è normale, tanto alla fine la gente si ricorda solamente dei risultati del campo, è andata male e siamo qua, ripeto, sono qua io a metterci la faccia. E il futuro invece di Matteassi? No, non lo so, non lo so, ripeto, sono arrabbiato e deluso di questa sconfitta, dell'uscita dai play-off, ma il futuro ancora, io non so nulla. Ancora calcio, ma di serie D in questo caso, penultima giornata del quarto torneo nazionale, grande tensione nelle parti basse della classifica, tanti gli scontri diretti che possono decidere la salvezza. Notaresco e Castelnuovo cercano vittorie fondamentali per evitare i play-out, vediamo il servizio di Andrea Costantini. 180 minuti di passione con l'obiettivo principale di evitare i play-out e garantirsi la salvezza diretta. Chieti, Notaresco e Castelnuovo hanno questo fondamentale obiettivo, anche se la situazione del Chieti al momento è quella migliore. Avendo ben quattro punti sulla zona pericolosa, la squadra di Lucarelli può anche giovarsi dei diversi scontri diretti tra squadre alle loro spalle. Domani all'Angelini arriva la seconda forza del campionato, il Trastevere, che deve difendere il piazzamento dall'assalto del Tolentino e che sarà privo dello squalificato all'Oporto. Anche un punto potrebbe stare bene al Chieti, che dovrà interpretare il match con la giusta Sagacia, sapendo che, a causa delle corte distanze, con una vittoria si potrebbero riaccendere anche speranze per i play-off. Ben più complessa la condizione delle due squadre del Bomano per il Notaresco e in atto un vero e proprio psicodramma. Cinque sconfitte consecutive l'hanno portato in piena bagarre play-out. Ora servono sei punti per uscire dall'impasse. Domani al Savini arriva una recanatese già promossa e le motivazioni dovranno fare la differenza per un notaresco orfano dello squalificato Sciva. Tra i pali ci sarà Mariani, poi ultimi 90 minuti in casa dell'Alto Casertano. Scontro direttissimo per il Castelnuovo, il punto strappato a Portodascoli è stato vanificato dagli altri risultati e contro il Montegiorgio domani saranno tante le assenze tra infortunati e squalificati Terrenzio, Casimirri, Morelli, Alfieri, De Giglio e Prestianni. Il tecnico di Fabio però non si lamenta e loda l'atteggiamento del gruppo. L'importante è quello che dico sempre a loro, che non devono mollare, ci devono credere sempre e lo stanno facendo. Siamo venuti anche qui a Portodascoli con tante assenze, però in campo poi non si vede perché la squadra dà tutto e di questo ne sono orgoglioso. Vastese e Pineto sono invece concentrate sulla caccia alla zona play-off. Il blitz nella capitale ha ridato il quinto posto all'avastese che domani avrà all'Aragona lo scontro diretto col Portodascoli. Marchigiani con tre squalificati, Sensi, Rossi e il tecnico Ciampelli. Sulla sponda di D'Adderio da valutare le condizioni di Agnello e Alonzi. Partita fondamentale in caso di vittoria play-off quasi blindati alla luce dell'ultima gara con il Nereto. Per il Pineto uno scoglio durissimo. La trasferta di Tolentino è molto complessa ma c'è bisogno di un risultato utile. Sappiamo che il Tolentino sta facendo veramente un grandissimo campionato. Nessuno se lo aspettava però comunque la classifica dice che sono lì e gran merito a loro. Noi ovviamente andiamo a giocare questa partita con tutte le nostre armi e cercando di portare a casa l'ottimo game. Comunque sicuramente non sarà facile, anzi rispetterà una grande battaglia perché comunque siamo tutti quanti lì, tutti quanti vogliono raggiungere i propri obiettivi e quindi ce la cediamo fino alla fine. Infine il Nereto che a Castelfidardo giocherà l'ultima trasferta stagionale. Saranno i campi del Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo ad ospitare le gare degli europei di calcio a 5 non vedenti dal primo al 17 giugno. Vediamo il servizio. Si terranno in Abruzzo i campionati europei di calcio a 5 B1 non vedenti. L'evento in programma a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara dal primo al 17 giugno nei campi del centro sportivo Poggio degli Ulivi. La manifestazione è stata presentata in settimana a Roma nella sede del Comitato Paralimpico Italiano alla presenza tra gli altri del presidente del CIP Luca Pancalli e del presidente dell'IBSA International Blind Sport Federation il teatino Sandro Di Girolamo. Nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione l'Italia è inserita nel gruppo A a fronte della Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel girone B ci saranno invece i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Nella prima settimana di giugno spazio al calcio femminile con le sfide tra Germania e Inghilterra per il titolo europeo e con il Campus IBSA a cui prenderanno parte 15 giovani calciatrici provenienti da numerosi paesi europei. Il 10 giugno via al torneo maschile con la partita inaugurale mentre la finalissima è in programma il 17 giugno. È un evento molto importante che darà visibilità a IBSA al calcio non vedenti al nostro paese ha commentato il presidente Di Girolamo. L'obiettivo, ha aggiunto il presidente del CIP Pancalli ovviamente è quello non solo di migliorare il buon sesto posto ottenuto nel 2019 ma anche e soprattutto quello di qualificarci per le Paralimpiadi di Parigi 2024. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e i referendum fissati per il solo giorno del 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi via Nazionale Adriatica Nord 26 al numero di telefono 085 93 0020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. Ed è tutto per questa edizione del TG6. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata. Grazie per aver guardato il video.